Ciao ben ritrovati, oggi indosso il progetto che vorrei presentarvi in questo tutorial si tratta di un poncho da indossare proprio adesso in primavera con le magliette sottili quando ci sono quelle serate un po' fresche magari con quelle giornatine con un po' d'aria è perfetto da indossare come potete vedere è più corto dietro e un po' più lungo davanti questo perché si realizza con un grande rettangolo lavorato a maglia ma non con con i ferri, questa volta vi presento il telaio ecco una lavorazione telaio è una lavorazione molto semplice e anche veloce e per questo mi piace voi lo sapete benissimo l'ho fatto con questi filati venere di ophelia italy ne ho usati circa quattro e poi ho fatto una micro decorazione qui con dei filati un po' più spessi per creare dei fiori che un po' mi ricordassero la primavera iscriviti al nostro canale via Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.